Thomas, prima di parlare di campionato ci occupiamo brevemente della sosta che ha caratterizzato lo scorso fine settimana, quindi la sosta per la nazionale italiana ha giocato contro la Svezia, immagino tu abbia visto le partite, cosa hai pensato non soltanto da professionista ma anche da straniero che ormai vive da tanti anni in Italia quando hai realizzato che l'Italia non sarebbe andata al mondiale? No, prima cosa dispiace perché un mondiale senza Italia io da quando vedo il mondiale non l'ho mai visto ed è una cosa un po' particolare, dispiace, ho fatto anche il tifo in quella partita lì perché anche per noi, per il calcio italiano, per la Liga è una cosa che fa un po' male perché l'Italia deve essere nel mondiale e dispiace anche perché conosco qualche ragazza che gioca lì e li ho visto soffrire e dispiace. Comprensibilmente abbiamo visto Andrea Belotti molto abbattuto, molto affranto dopo il match, ovviamente anche voi compagni avete contribuito a sollevargli il morale quando è tornato? Sì sicuramente perché Andrea abbiamo i sogni perché è un giocatore molto importante per noi e sicuramente sarà un colpo di emozione dura da affrontare, il senso che lui stava per giocare il suo primo mondiale con la nazionale, poi si trova in una posizione dove sono fuori quindi noi cerchiamo di dargli stimoli così lui ritrova anche più presto il sorriso, anche il gol e ci è una mano come al solito lui sa fare. Il sorriso potrebbe già tornare domenica perché adesso la testa è sul Chievo Verona, come state preparando questo match non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, un po' anche per ripercorrere le parole del mister che parla molto spesso di fase 1, quindi l'approccio alla partita? Sì abbiamo approfittato la sosta, quelli che siamo rimasti qui per lavorare un po' anche la parte atletica, di confermare quello che si è visto contro l'Inter, io penso che il punto più importante adesso nostro è poter dare questa continuità di prestazione che si è visto a San Siro con 70.000 spettatori, quindi questo sarà il nostro punto di forza, come ha detto il mister con l'approccio giusto, con il livello di attenzione giusto perché è una partita tosta, una squadra che sta facendo bene da parecchi anni in Serie A, però soprattutto dipenderà da noi di dare questa continuità di prestazione che dopo si trasformeranno in continuità di risultato anche. Grazie.